Marco, ma Salvatore? Dovrebbe essere già qui, è andato a portare la macchina. No, ma Salvatore è andato a portare la macchina. No, non lo so, 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 non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sì, sì. Viene il parabruccio, il paracluccio si va bene? Grande, ottimo, mai vintare. Benvenuto, non sembrava un'altra, però non sembrava un'altra, però non sembrava un'altra. Andiamo indietro. Sì, è che ci ha portato la città, è tremendo. Cosa? Mariccio, Mariccio, la città è un pedologo. Sì, è un pedologo. Sì, è un pedologo. Sì, è un pedologo. Sei pronti? Mi devi portarlo l'acqua, mi devi lasciare la guada sotto. Lascialo, lascialo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Svizzera? Svizzera? No! No! No, Sergio! Ecco, Dino, classe 975. Adesso. Comuncia a sentire. Questa la conosco perché è in piscina. Questa la conosco perché è in piscina. Questa è in piscina. Questa è andata sull'acqua. Qual è l'acqua? L'acqua. L'Arno? L'Arno, sì, che bello! Mi sono veramente divertito. Bellissimo. Oh! La G.H. d'acqua è proprio... È un ideale. Soprattutto le navi specifici. Fossiamo andando per vento. Soprattutto il fondo del qualcuno. Esatto. Eh, quello non avete visto il San Maggiore. Soprattutto il vento. Soprattutto il vento. Soprattutto il vento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.